si approssima l'estate finalmente anche le restrizioni anti pandemiche insomma si allentano e siamo andiamo verso le riaperture riapre anche il giardino delle rose di cordovato qui siamo con benedetta piccolomini che ci illustrerà un attimo questa meraviglia che abbiamo sotto casa veramente questo dove siamo adesso è il labirinto delle rose che è nato nel 2015 accanto al vecchio parco ottocentesco quindi si passeggia sotto alberi secolari con l'ombra quasi sole ombra e poi si esce proprio al sole per visitare il labirinto delle rose che è stato pensato costruito proprio per potersi perdere nel profumo delle rose e ritrovare la propria armonia interiore le rose sono quasi tu non sono ancora tutte fiorite per il via del tempo che è stato un po freddo quest'anno però ecco si viene qui come diceva lei per perdersi no ma senza ansia e senza sì è un labirinto studiato in modo che non solamente per passeggiare a lungo nel profumo delle rose non ci sono strade chiuse non c'è niente che può portare nessun tipo di ansia ma soltanto appunto immergersi nel profumo delle rose e perdere proprio i propri pensieri quelli che che magari ci assillano un po e ritrovare la nostra parte migliore la nostra serenità ecco il giardino e il labirinto sono visitabili si si possono visitare adesso questo prossimo weekend anche il 2 giugno e anche per castelli aperti il 5 6 giugno e su prenotazione quando si vuole oltre al labirinto di rose però c'è anche un parco monumentale bellissimo un parco romantico realizzato nell'ottocento si all'inizio dell'ottocento è stato realizzato questo parco proprio col gusto di quel momento romantico e la sua particolarità è di sembrare molto grande perché ogni poco si ci si apre un nuovo panorama ci sono collinette ci sono i fossati del vecchio castello che circondavano il vecchio castello e tutto il borgo e quindi abbiamo questa impressione di camminare a lungo in realtà siamo quasi sempre nello stesso posto però abbiamo continuamente una nuova visione questo è stato proprio la genialità di chi l'ha pensato e siamo all'interno dell'antico borgo di cordovado sì l'antico borgo di cordovado che era nato come un castro romano e poi nel medioevo è diventato un castello e poi con i veneziani hanno conquistato questo castello l'hanno distrutto è nato questa la villa in stile cinquecentesco proprio stile veneziano e intorno ci sono c'è tutto il vecchio borgo le vecchie case delle persone che lavoravano qui dell'azienda agricola è tutta molto particolare e tutta questa meraviglia all'interno di un'altra meraviglia che il borgo storico di cordovano sì qui siamo tra le due torri la torre nord della torre sud attraverso e che proprio le porte del castello che sono state costruite sopra le rovine del castro romano che era nato per difendere questo guado sul fiume tagliamento e da cui poi ha preso anche il nome cordovado la corte del guado o il cuore del guado come ci piace di più pensare ci diverte di più e vedete ci sono dei palazzi antichi c'è il palazzo quel palazzo giallo alle mie spalle è il palazzo dove abitava il capitano che difendeva il castello il palazzo bozza marrubini poi c'è questo palazzo agricola dove con le rose è una vecchia casa ancora con gli archi gotici è un piccolo borgo davvero prezioso di meraviglia e quindi il parco e il labirinto delle rose saranno ripetiamolo aperti aperti tutta l'estate praticamente nei fine settimana forse meteo permettendo comunque sono aperti sicuramente nei fini settimana adesso di giugno grazie a tutti Grazie a tutti.